Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Patrick e oggi porteremo finalmente gran turismo Proveremo a portarlo, oggi faremo una mini gara di kart e speriamo che vada tutto bene Ovviamente non farò più live, porterò solo i video contenuti così, perfetti, così belli Perché così almeno non sarò fermo a leggere la chat ma riuscirò anche a parlare con voi E anche per vedere il video che dura anche un po' di meno perché facevamo delle live da un'ora Invece qui sarà un video da 20 minuti massimo Allora, allora vi dovevo far vedere, ah prima vi devo far vedere il kart Ok, eccolo qui, questo è il nostro kart, il racing kart 125 shifter, gran turismo, molto bello E il prossimo video che uscirà qui sul canale youtube porteremo le grafiche con le nostre sagamaturine Team Patrick Adesso vediamo, vediamo però Allora, torniamo subito alla schenomata principale perché volevo fare questa bella gara insieme a voi Allora, questa sembra un po' troppo facile Proviamo, non so, o lago maggiore o sardegna Vedere Proviamo questo qui Ok, lo mettiamo Aspettiamo a pomeriggio che sembra più soleggiato Ovviamente prendiamo il nostro kart Automatico Usiamo Possiamo usare una difficoltà anche in termini di a catassero Non so perché è molto difficile Quindi proviamo subito, proviamo con l'intermedia Poi se vediamo che la difficoltà è troppo bassa Dopo decideremo di metterne ancora Siamo pronti Ecco il nostro kart che si sta per accendere E' bellissimo anche la raffigurazione dei motori, dei pistoni Sentite come canta questo motore Sentite come canta Bene, siamo in Sardegna E partiamo Si parte unicesimi Abbiamo due giri per recuperarli tutti Vediamo Però ricordiamo che il circuito è lungo Quindi può darsi che li possiamo anche riprendere Via È arrivato all'illimitatore il motore Cavolo Abbiamo 6 secondi dal primo Ricordiamoci di staccare qui perché Ovviamente non usiamo gli aiuti Solo due giri su un po' Proviamo a farla Più attaccata possibile Occhio qui Siamo usciti bene però Stiamo recuperando Oh mamma mia Ho rischiato di metterla a guardrail Dai forza che voglio provarci di nuovo Ancora non è finito però ragazzi Ci possiamo riprovare Eh non va più di 180 Però ci siamo avvicinati 3 secondi siamo Siamo tutti lì Oh mamma mia Siamo qui Siamo qui Siamo vicini Eccoci 1.33 Siamo a 2 secondi dal leader Oh sull'erba Ci abbiamo provato all'esterno Siamo quasi già sul rettilineo Bisogna staccare All'esterno Vediamo se ne abbiamo sorpassato uno Sorpassato adesso uno La scia fa miracoli qui Prendiamo un po' qui Per poi andare sul rettilineo Ci risorpassano tutti Ma noi proviamo a prendere la scia Prendiamo a prendere la scia Guardate come risciocchia Tutta la scia Questo kart Stiamo arrivando Guardate Siamo attaccati Siamo ottavi In questo momento 1.2 dal leader Fregniamo qui Molto Molto meglio Siamo attaccati Siamo attaccati al numero 20 Possiamo già provare qui L'esterno e poi l'interno Molto bello Molto bello Bella Sta staccata Ah Peccato Per poi dovrà fare l'esterno Ne sorpasso due Esco meglio Anche dal di qui Ne passiamo un altro Oddio Si frena Se vi ha fatto il Foxia Siamo in 5 Per la vittoria Ci spostiamo Andiamo anche di qua Che spettacolo Questi kart Si va via In prima posizione Incredibile Sembrava che non ne avevamo Si frena Si frena Si frena Si frena Si stacca Dentro Bello Preciso Non è finito Perché ci sarà la scia Sono tutti qui Sono tutti vicini Attenzione però Faccio il miglior tempo Il mio miglior settore Ottimo Si frena un po' qui Staccati Chi lo finirà Ci togliamo dalla scia Ma ci prenderanno tutti la scia Chi vince Chi vince Chi vince Si stanno avvicinando Vittoria Per 184 millesimi Bellissima Bellissima ragazzi Molto bella Eccoli qui Molto bella questa pista Prendiamo un po' di CR Ok Non fa mai male Ottima Bellissima gara ragazzi Mi è piaciuta moltissimo Come l'abbiamo fatta Come è venuta Quindi Ne vorrei provare a fare un'altra Adesso Proviamo Proviamo la pista più corta adesso Sempre la Sardegna Sempre Sardegna Ma pista Qual è la più corta? Questa Questa è quella più lunga Ok Proviamo questa Mettiamo sempre verso Ma qui fa più Un sole che Fa più sole alla mattina Che il pomeriggio E che il giorno Oh vabbè Facciamo pomeriggio Pro Ah Non si può correre col kart Ok Questa gara Quindi Andiamo a provare questa qui Che secondo me È molto bella Anche questa Col kart Anche questa è molto bella Sempre intermedio Perché adesso Proviamo Poi dopo Vediamo Molto belli però Questi kart Sentite qua il rumore Del motore Molto bello Ok Eccoci qua Si faranno dieci giri Quindi Perché è la pista Più corta Ma Saremo vicini Cavolo Se va qui Si sente Un casino Già Frazi tutti Oh cavolo qui Qui bisogna andare piano Oddio Scusi Cinque secondi Per Vettel Ok Bella qui Oh Il contatto Scusi signore No Mi scusi Non volevo farlo forte Mi scusi Pilota Vabbè Dai Più facile Così Vabbè Dai Finiamo sta gara E poi dopo Proviamo a fare Proviamo a farla Con il difficile Perché È troppo facile Perché guardate Ci siamo già qua In tre giri Vabbè Allora facciamo così Subito Facciamo così Ci rifacciamo Questa gara Che così Mezzogiorno Lo facciamo Ecco il kart Ce lo facciamo Professionista Dai Perché era Troppo facile Si vedeva Troppo che Guidavo bene La macchina Poi dopo ragazzi Nel prossimo video Ovviamente Vi porterò Il Il video Il video Che metteranno Come ho già detto Le saga Le saga Maturite Siamo pronti Abbiamo dieci Giri Per Gira Per sorpassarne Un Eh dieci Quindi una Giro Proviamo È più difficile Adesso Ma non molliamo Guadagniamo Lo stesso Bisogna Solo prenderci Un attimo La mano Ecco Infatti Questo Lo prendiamo Già qui Dentro Bello Secco Esagerato Un po' Qui Bisogna stare Attenzi Ma Si va fortissimo Guadagniamo Siamo già Due Tre Siamo decimi Battaglia Lì c'è la battaglia Per la terza posizione Possiamo farcela Sto girando Sono il più veloce Proviamo All'esterno E un altro E andiamo Un altro Fucsia Stiamo facendo Il miglior giro Della gara Alziamo un po' Il piede Se no qua C'era lo scontro Proviamo qua La staccata Chiude E allora Andiamo all'esterno E andiamo All'esterno Andiamo all'esterno Quasi in contatto Oh cavolo All'esterno All'esterno Dentro Ah peccato Non ci siamo migliorati Siamo a 1.7 Ah no Qui c'è la battaglia Per la quarta posizione Così E allora Proviamo ad andare A riprendere Abbiamo soltanto Siamo quarti In questo momento E si faranno 15 giri Di gara Quindi Attenzione Adesso abbiamo Siamo quarti Adesso proviamo Andarli a riprendere Questi tre Stiamo girando fortissimo Ma Siamo a 1.3 Gli guadagniamo tantissimo Siamo veloci Siamo veloci 1.3 Sempre 1.3 Siamo a 9 decimi Faccio il mio giro veloce Hanno girato Il 19.4 Quelli davanti Il primo Quindi è normale Che non li prenderò Però Però già è tanto Essere già qui Però forse Se si danno Un po' di fastidio Potrei farcela Ah qui Aia Qui bisogna stare attenti A non prenderle E infatti Perdiamo 1.4 Siamo solo a metà gara Ma Gli sa che è finita Perché Siamo arrivati allo standard Perché guardate Sono tutti qui È 1.5 Ci proviamo però 1.4 Proviamo a girare Nella traiettoria Più sporca E più pulita 19.6 Ancora Però gli stiamo guadagnando Facendo così Ah peccato che è Siamo negli ultimi giri Se no Avremmo potuto anche Prenderli Siamo a 8 decimi Dall'ulterzo Ci proviamo Ma ancora niente Da fare Sono tutti lì È difficile Adesso andare lì A riprendere tutti Eh si sta andando a fastidio Ma Non riesco a approfittarne Sono 8 decimi Cavolo Eh vabbè Dai una quarta posizione Va bene Sono vicino però 9 decimi Di 7 decimi Attenzione Non è finita ancora La gara Siamo vicini Siamo arrivati Siamo arrivati sul terzo Miglior giro nostro Ci proviamo all'esterno Per poi provare l'interno Oddio Oddio Ci giochiamo la seconda posizione Adesso siamo secondi Wow Chi se lo aspettava Chiude lui Ultimi due giri Bisogna provarci Di cattiveria qui Siamo passati Siamo passati i primi Ora bisogna fare tutto Perfetto In questo ultimo giro Che sta per iniziare Sta per iniziare L'ultimo giro Siamo riusciti a riprenderli Forza Gli stiamo dando Un po' di gap Il nostro kart Incredibilmente Ha dato tutto adesso Forse avevano finito La benzina loro Ma noi Stiamo per andare A vincere Questo gran premio Col kart Bellissima Bellissima gara Anche questa Bellissima ragazzi Molto bella Anche questa Prendiamo i nostri CR Ok Ottimo Quanto abbiamo fatto stasera? Oh 62.000 E' buono Chiudiamo Niente ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale Per altre gare Simili E noi ci vediamo Alla prossima Avventura Ovvero Le saga maturine Sul nostro kart Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima